Riduzione delle corse di VCO Trasporti. Insorgono i giovani democratici che hanno incontrato il sindaco Silvia Marchionini, l'assessore Laura Sau e il presidente Roberto Tomati, sottenendo ciò che volevano. Appena abbiamo saputo dei tagli ai trasporti pubblici, scrive in una nota il segretario Mattia Nobili, ci siamo subito opposti e nei luoghi opportuni abbiamo portato avanti la nostra battaglia. Sappiamo tutti benissimo le difficoltà e il malumore di chi prende VCO Trasporti. Non è un servizio efficiente e tagliare e disinvestire non lo renderà migliore. Per questo i giovani demo hanno chiesto una riunione urgente. L'amministrazione di Verbagna ha dimostrato di essere un'amministrazione con la maiuscola, scrive Nobili, che rispecchia in pieno le nostre idee di un governo di sinistra in una città. Grazie alla collaborazione con questa amministrazione abbiamo ottenuto tutte le nostre richieste. Dopo Pasqua sarà rimessa almeno una delle corse serali soppresse, sarà VCO Trasporti a valutare quale reinserire. In estate saranno ripristinate tutte le corse e in più saranno introdotte corse fino a luna di notte, da Verbagna a Omegna e viceversa, per le giornate di mercoledì, sabato e forse venerdì. Inoltre, fa sapere i nobili, VCO Trasporti lavorerà per far arrivare in orario per quanto possibile le corriere, soprattutto quelle che coinvolgono studenti e pendolari. Non possiamo permettere che gli studenti arrivino in ritardo a scuola o che i pendolari perdano il treno. In conclusione, è chiesto anche lo sviluppo di una app con tracking del corriere e l'installazione di pensiline con informazioni istantanee. Forti del risultato ottenuto, conclude i nobili, abbiamo ottenuto un grandissimo risultato, oserei dire storico. Continueremo nelle nostre battaglie, c'è ancora molto da fare. Regione e Stato devono investire sui trasporti pubblici, non possono lasciare cittadini e comuni da soli. La nostra prossima battaglia sarà su Trenord.